È stata una situazione particolare quella vissuta mercoledì sera a Lecce, nel rione Colbe, San Giovanni Battista, tra via Pistoia e piazzale Cuneo. Inizialmente un incendio ha interessato una BMW X3 intestata da una donna di 30 anni, nota le forze dell'ordine e al momento in affidamento in prova ai servizi sociali. Le fiamme poi dalla vettura parcheggiata nelle vicinanze di una zona alberata si sono propagate, raggiungendo anche un vicino scooter. I primi a giungere nel rione interessato per domare il rogo sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale, raggiunti poi dai carabinieri del comando compagnia. A un certo punto però la situazione ha preso una piega diversa. L'incendio infatti ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona, che sono scesi per strada e per motivi ancora da chiarire hanno dato il via ad una vera e propria lite. Per placare gli animi è stato necessario il supporto di altre volanti che hanno poi riportato la calma tra i residenti. Non è chiaro ancora se la matrice dell'incendio sia dolosa, gli stessi vigili del fuoco non hanno rilevato prove particolari. Tuttavia i sospetti che dietro fosse esservistata la mano di qualcuno non mancano.